Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Oggi è ampia pagina dedicata alla politica cittadina e Torre del Greco. Ieri infatti le prime cinque nomine per gli assessori della nuova giunta Palomba. Abbiamo parlato proprio col sindaco Giovanni Palomba dei motivi che hanno portato alla scelta dei nomi e gli obiettivi da perseguire da oggi per il benessere della città. Sempre in tema di assessori abbiamo parlato con Giuseppe Speranza, assessore con delega al cimitero, servizi demografici e tecnologici e allo sport. E invece è ancora confusione sulla nomina per la nettezza urbana che è affidata ai consiglieri Mele e Buono. Invece la federazione è esente da deleghe e per questo abbiamo ascoltato il consigliere Salvatore Gargiulo. E in conclusione la cronaca con una maxi operazione nella Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Alcune persone percepivano il reddito di cittadinanza pur essendo stati condannati per associazione mafiosa, sequestri per oltre un milione di euro. Questo ed altro nei nostri servizi. Sindaco Giovanni Palomba, dopo oltre 15 giorni di stallo finalmente si arriva alla definizione della nuova giunta. Sono state scelte le competenze? Sì, sono state anche individuate dal sottoscritto i primi cinque assessori. Penso domani ci sarà il sesto per fare l'aggiunta già lunedì alle ore 14.30. Sono tutti assessori di nomina del sindaco, come la legge dice, e sono state già date le deleghe, persone che praticamente sono dei professionisti, persone che praticamente c'è un architetto che quando riguarda il SUAP, c'è chi ci deve seguire, quelli che sono i servizi sociali, e poi ci sono persone della politica che sanno bene l'amministrazione comunale, in che modo svolge le sue attività. Le problematiche sono fondamentali perché noi purtroppo c'è una mancanza di dipendenti, non solo a Torre di Greco, ma in tutte quelle che sono le realtà delle amministrazioni pubbliche. Io quando sono stato eletto due anni e mezzo fa c'erano ancora 520 dipendenti, oggi sono 280. Riconfermato solo Enrico Pensati che assume anche la nomina di vice sindaco, chi sono gli altri assessori? Io devo ringraziare del lavoro che hanno svolto gli assessori che sono stati presenti nell'aggiunta fino a poco tempo fa. I nuovi assessori sono assessori che io ho cercato di trovare, come ho detto prima, persone che hanno vissuto la vita amministrativa della nostra città, quindi conoscono bene, e altri assessori che praticamente sono dei tecnici. Sindaco, a chi andrà la delega alla nettezza urbana? Mi sono anche aperto un po' a delle forze politiche. Teniamo conto che la nuova maggioranza l'avremo in Consiglio Comunale. In questo momento io non so solamente l'aggiunta, ma qual è realmente la maggioranza in Consiglio Comunale, posso dire che il sindaco voterà a favore. Quali saranno i numeri e chi sono i numeri, lo andiamo a vedere in Consiglio Comunale. Ma mi sono aperto a delle forze politiche, ho cercato praticamente, chi mi è venuto a informarsi come stava andando la questione della crisi. Ci sono stati anche un gruppo, quali 5 Stelle, e che io ho parlato pubblicamente in questa stanza, alla stanza del sindaco. Io ho anche chiesto ai consiglieri non di votarmi, perché io non ho chiesto il voto a nessuno, anzi di votarmi ancora di più contro. Ma se loro potevano individuare al sindaco un nome. Io mi sono aperto a chi però voleva parlare con il sindaco, non per chi si voleva chiudere e fare un muro con il sindaco. I consiglieri Mele e Buono faranno parte della nuova maggioranza? Sento dire Mele e Buono, sento dire altri consiglieri. Allora, in Consiglio Comunale vediamo cosa avviene negli indirizzi che noi abbiamo da votare il PUC, che è fondamentale perché dà il 65 il piano regolatore. Teniamo la bretella autostradale. Teniamo, ecco, questa che è la sfida dell'ANU, cercare di dare un passo in avanti per quanto riguarda la questione dei rifiuti a Torre del Greco. E diciamo, ci sono delle sfide, ma più che altro ci sono delle sfide. Vediamo in Consiglio Comunale, se ci sono e chi sono i consiglieri che vogliono portare avanti questa ultima parte dell'amministrazione attuale, dell'amministrazione targata Palomba, ma voglio dire, non è Palomba, è la città, i bradi, e questo lo vediamo in Consiglio Comunale. Sono state settimane di dialoghi e di incontri. Cosa si sente di dire oggi alla federazione? Conosco i consiglieri comunali, quindi sigla anche perché io sono di un gruppo, cioè io vengo eletto da realtà civiche, quindi uno vale uno. Per me non esistono federazioni o confederazioni, ma non so a cosa servono onestamente. Io dico una sola cosa, è che ho dato a me stesso, in questo momento, e qui mi sento veramente sereno, ma dal primo minuto da quando mi sono insediato io sono sereno, tranquillo, perché so che io non ho vincoli né di parentele, né politica e né di gestione. I cittadini chiedono delle risposte. Ora, quali saranno, lei lo diceva già prima, le nuove sfide, i nuovi obiettivi da raggiungere della nuova giunta Palomba? Seguiremo praticamente un po' quelli che sono stati indirizzi anche a metà novembre. Non dimenticate che noi teniamo la rivalorizzazione dei mulini marzoli. Ricordo che qualche sindaco prima di me voleva dare questo bene della città a qualche sceicco, lo voleva vendere. Noi lo stiamo rivalorizzando, teniamo per quanto riguarda la Federico II la possibilità di una struttura dei mulini per la riproduzione del corallo, col basket di riproduzione del corallo, finanziati, attenzione. Ho mandato l'istanza alla città metropolitana affinché l'istituto nautico possa praticamente essere all'interno di un'altra struttura dei mulini marzoli. Con i PIC, se teniamo il laboratorio teatrale, con un laboratorio di teatro, con un parcheggio. Poi ci state voi alla Stecca, ci sono altri uffici della Capitania dei Porti. Ultimamente sono i partiti lavori della bretella dell'autostrada e poi c'è la sfida per quanto riguarda la NU. Io sono qui, sempre pronto, attivo, presente. Voglio dire, sbaglierò tantissimo, lo dico sempre, le colpe sono tutte quante mie. Però voglio dire, da parte mia, io mi porto sempre il mio insegnamento avuto dal mio genitore, con molta umiltà, pacato, tranquillo, sereno, sempre disponibile. E Giovanni è questo, non so dirvi altro. Dopo settimane di stallo, ieri è stato formato l'esecutivo di Torre del Greco. Fra i nuovi assessori della giunta Palomba figura anche Giuseppe Speranza, che ha ricevuto la delega al cimitero, ai servizi demografici e tecnologici ed allo sport. Alle nostre telecamere ha parlato della nomina e dei suoi primi impegni nell'immediato futuro. Ci terrei a ringraziare il sindaco e la consigliera Nalauro Corino per aver individuato in me la persona che poteva rappresentarli in giunta. Sì, nuova nomina, nuove deleghe, per dare un rilancio e uno slancio a questa amministrazione che negli ultimi tempi, ahimè, si era un pochettino assopita. Tra le deleghe che ho assunto abbiamo la delega allo sport, al cimitero, al CED, servizi demografici, servizi tecnologici e formazione. Stamattina avremo già un primo sopralluogo al cimitero per cercare di individuare eventuali criticità della struttura cimiteriale e tra le tante cose preannuncio già un'iniziativa che faceva parte del programma del sindaco che è quella di realizzare, spero a breve termine, ma iniziamo oggi l'ITER, un cimitero per i non umani. Un'iniziativa molto voluta dalla città anche perché effettivamente ormai gli animali domestici, i cani, i gatti e quant'altro fanno parte della nostra vita quotidiana. L'assessore ha anche commentato e giustificato il ritardo sulle nomine. Sicuramente il sindaco ha temporeggiato, si è preso qualche giornata in più proprio per cercare di dare alla città una giunta che sia, non so dire più qualificata, ma sicuramente avremo più tecnici in giunta. Oltre ai politici avremo dei tecnici, il che è un fatto importante. Il sindaco ha lavorato forte su questa cosa e ancora stamattina deve arrivare ancora la nomina di qualche altra delega, in particolar modo quella dell'iniziativa urbana. È un problema che sta a cura tutta la città, anche se io non rivesto quelle deleghe da cittadino prima e da componente di questa amministrazione, sicuramente cercherò di dare manforta alla risoluzione di questa problematica che ormai è atavica e cercheremo di fare il meglio. Un messaggio ai cittadini, quale sarà il futuro della città di Farò del Greco, sia da un punto di vista politico che dal punto di vista economico, anche alla luce di questi mesi difficili? I cittadini, il messaggio che darei stateci vicino, invece di criticare sui social, invece di sparare giudizi anche prematuri. Un'amministrazione va giudicata dopo un lavoro di cinque anni del suo arco consigliare. Non possiamo emettere delle sentenze in antiprima, in anticipo, senza prima conoscere i fatti. Spesso leggiamo sui social dei commenti che onestamente farebbero meglio a non tenerli, ma non perché abbiamo paura di essere giudicati, perché chi opera è soggetto anche a critiche, è soggetto a giudizi, però io sono per la polemica costruttiva, sono per il giudizio costruttivo. Se i cittadini hanno delle idee, delle iniziative che vanno nell'interesse dell'intero paese, possono anche fare delle proposte. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa, a qualsiasi tipo di proposta. Le tanto attese nomine degli assessori dell'Aggiunta di Torre del Greco hanno delineato il nuovo percorso e l'esecutivo di Palomba. Rimane esclusa dalle deleghe la federazione, raggruppamento di otto consiglieri che hanno preso le distanze dalla maggioranza dopo l'azzeramento disposto dal sindaco. Fra questi, Salvatore Gargiulo, che alle nostre telecamere ha rilasciato prime considerazioni sulle recenti nomine. Come nasce questa federazione? Questa federazione nasce solo ed esclusivamente per dare una mano forte alla città. non nasce, sono sicuro e convinto, non nasce sotto forma di ricatto, non nasce sotto forma di nessun scopo. Nasce solo per il bene della città. Sono nate delle incomprensioni, quindi penso che secondo me un po' dall'altra e dalla nostra parte non ci siamo forse troppo capiti. è stato fatto un nuovo esecutivo, quando viene nominata una nuova giunta sono tutti bravi. Bisogna vedere dopo quello che riescono a fare, io mi auguro che riescono a fare. Però non mi voglio prolungare più di tanto perché non so le cose come andranno a finire. Siamo ancora in una fase di non scontro, di trattative, non lo so, non so come spiegare la cosa. Io mi auguro che tutto si risolva più presto, magari, ma non per me, non per i consiglieri, ma per la città. Niente di dare, di mandare un messaggio ai cittadini. A volte a noi ci condannano le leggi, in Italia sono sbagliate le leggi perché tu vorresti fare tante cose, ti spiego. Ci stanno a fiorire da una parte e la vuoi spostare a un'altra. Sono delle leggi che non ti permettono, bisogna fare tutto in terra e quindi è il sistema che secondo me è sbagliato delle leggi. Diciamo che stanno in Italia come stanno dappertutto e quindi a volte non ci permettono di fare tante cose. Io certamente da consigliere, da cittadino torrese, mi auguro che si risolva tutto. Attesa invece per la delega alla lentezza urbana, che dovrebbe essere affidata ad una persona scelta dai consiglieri leghisti Mele e Buono. Ci è stato chiesto se avessimo a cuore le sorti della nostra città. Abbiamo risposto di sì, ma a condizione di risolverne i problemi. Così hanno commentato la loro partecipazione al nuovo esecutivo. La scelta dovrebbe ricadere su un professionista esperto nel settore. I consiglieri si sono dati un ultimatum. Se in sei mesi non riusciremo a risolvere la questione rifiuti, annunciano, siamo pronti a rinunciare all'incarico. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega delle procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, stanno dando esecuzione a 120 perquisizioni nei confronti di soggetti che risultano aver percepito il reddito di cittadinanza indebitamente, in quanto condannati in via definitiva nell'ultimo decennio per il reato di associazione di tipo mafioso e a sequestro preventivo delle somme ricevute dagli indagati, nonché delle carte prepagate utilizzate per l'erogazione del beneficio. L'attività investigativa è stata effettuata dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziale di Napoli e del Gruppo di Torre Annunziata, mediante un'accurata analisi orientata a verificare i requisiti per la legittima percezione del beneficio. È stato così possibile individuare centinaia di domande presentate dai soggetti residenti nella provincia di Napoli, nonostante la sussistenza di cause impeditive. Come noto, infatti, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di particolari requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e patrimoniali, nonché di ulteriori presupposti di compatibilità. In particolare, nel corso delle indagini, sono state accertate l'omissione di informazioni dovute e la non veridicità dei dati autocertificati nelle domande di reddito di cittadinanza, presentate da coloro che, essendo stati condannati per il reato di associazione mafiosa, non avrebbero potuto, in alcun modo, accedere alla misura di sostegno del reddito familiare. All'esito degli accertamenti condotti, le autorità giudiziarie interessate hanno disposto le 120 perquisizioni in corso di svolgimento, volte a sottoporre e a sequestro le somme indebitamente percepite dagli indagati, a titolo di reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo pari ad oltre 1.180.000 euro, nel periodo compreso da aprile 2019 a gennaio 2021. L'operazione ha richiesto un massiccio impiego di forze quantificabile in oltre 500 militari del comando provinciale, con l'ausilio anche dei baschi verdi. Non si tratta dei furbetti del reddito di cittadinanza, ma di soggetti condannati per gravi delitti di associazione mafiosa che hanno commesso illeciti contro il reddito di cittadinanza, presentando autocertificazioni false per ottenere indebitamente il beneficio. C'è stato un proficuo scambio di informazioni tra IMS e Guardia di Finanza e un'azione coordinata di tutte le procure partenopee, Napoli, Napoli Nord, Nola e Tore Annunziata, per organizzare questo intervento a massa con più di 100 perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre 1 milione di euro. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. Con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.